E' questa che espressione felice, che espressione felice, guarda che l'abbiamo beccato, guarda, 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 che animaluccio guarda, eh, guarda, lo vedi, lo vedi che l'abbiamo beccato? Oggi è una giornata particolarmente fortunata, la rete è piena di pesce, è piena, è piena, lo volete vedere la rete piena di pesce, guarda, lo vedi il pesce, lo vedi, lo vedi il pesce? Quello se n'è andato, bastardo se n'è scavato, no no, ancora sto là, vedi, vedi, guarda, 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 quello l'avete visto? E' questo che spettacolo, è saltato fuori dall'acqua, bellissimo, l'hai visto come è saltato fuori dall'acqua, l'hai visto? Ci vediamo dopo, eh?